Come trasformare un campo convenzionale in un rifugio per la biodiversità? Noi di Natura Si abbiamo avuto una visione e ci siamo immaginati di realizzare un vero e proprio giardino per la fauna. Noi di Natura Si abbiamo avuto una visione e ci siamo immaginati. Noi di Natura Si abbiamo avuto una visione e ci siamo immaginati. Noi di Natura Si abbiamo avuto una visione e ci siamo immaginati. Noi di Natura Si abbiamo avuto una visione e ci siamo immaginati.